Sarà una lunga notte di solidarietà a sport e spettacolo, quella che vedrà protagonista è la notte di San Valentino, la fondazione Learn to be Free e le micro web tv italiane. Una maratona di solidarietà in diretta dalle ore 20 sulla web tv della fondazione e su Roma 1 la tv della capitale, per raccogliere fondi in favore del paese di San Gregorio, distrutto dal sisma che il 6 aprile ha colpito la provincia dell'Aquila. Un contributo di 2 euro si potrà inviare tramite sms al 45565 dal 13 al 28 febbraio. La notte tra il 13 e il 14 febbraio è una grande festa dedicata naturalmente all'amore per gli innamorati e anche alla solidarietà. Vogliamo ricordare che ci sono delle persone che fanno fatica, in questo momento sono ancora nel nostro cuore gli aquilani, e dedichiamo questa serata a una raccolta di fondi per la costruzione di un centro sportivo nella frazione di San Gregorio, presso l'Aquila. Sono ragazzi come quelli che si divertono nelle discoteche dei posti ricchi dove c'è anche l'impianto sportivo, ma lì l'impianto sportivo non c'è più perché a causa del terremoto le tende sono state messe nei campi sportivi, cosa bellissima, però poi i campi sportivi servono anche per continuare a vivere in maniera normale. E allora vogliamo aiutare questi ragazzi ad avere un bel centro sportivo come forse avrebbero tanto voluto, pure prima insomma del terremoto. Allora raccoglieremo i fondi per questo scopo e riusciremo a farlo io credo anche in allegria, perché poi c'è anche la felice coincidenza che quella è la notte di carnevale, allora sarà anche una grande festa in maschera dedicata alle grandi coppie. Nel concreto come tende gestire questi fondi la fondazione? Questi fondi sono interamente rendicontati, interamente destinati alla costruzione di un centro che non soltanto sarà bello e accogliente, ma sarà anche costruito con delle tecnologie che proprio purtroppo all'Aquila sono state collaudate, cioè architettura biocompatibile, prefabbricata, stabile, antisismiche, insomma con tutti quegli elementi importanti di sicurezza che abbiamo imparato, la cui importanza abbiamo imparato ad apprezzare. Dopodiché nell'assoluta trasparenza noi rendiamo conto passo per passo insomma di tutte le nostre azioni, d'altra parte Web2B Free che è la nostra televisione è la voce per dire, per raccontare, ma anche per far arrivare dall'esterno il canale attraverso il quale comunicare per poter essere compartecipi anche del percorso di costruzione di questo centro. Questa è una delle tante iniziative della fondazione, quali sono le altre attività? L'Ontb Free lavora come se fosse una società di consulenza per le imprese, perché noi aiutiamo le imprese a crescere o anche a esistere, dove c'è bisogno di un'impresa noi aiutiamo a costruirla, allo scopo di creare lavoro per le persone disoccupate e in difficoltà. Quindi abbiamo un approccio molto aziendale della verità, siamo l'unica ONLUS che agisce in questa maniera. Pensiamo che sia l'anello che manca, moltissimi fanno formazione per le persone disoccupate, alcuni la fanno persino bene, però non c'è nessuno che si preoccupa di creare le condizioni perché poi i posti di lavoro effettivamente ci siano e noi questo facciamo, sappiamo far questo, quindi ci inventiamo progetti di sviluppo adatti a diverse realtà. Abbiamo in piedi un'attività molto importante di promozione turistica e culturale e anche di attività artigiane nell'Appennino Parmense, in particolare nel comune di Berceto, dove abbiamo lanciato un grande festival dedicato al tema dell'identità, l'identità locale, del popolo, della gente. Però abbiamo anche un'attività molto seria che ci sta moltissimo a cuore, con il ministro della pubblica istruzione che ci ha chiesto di curare i rapporti con le imprese, anzi che costruire dei rapporti con le imprese per i laboratori artigiani all'interno delle carceri minorili che esistono, servono, ma non funzionano, sono pochissime le aziende che si preoccupano di questo tipo di realtà. Invece bisogna offrire un futuro a questi ragazzi che stanno scontando la loro pena. Abbiamo attività di formazione, non so, legate alla manutenzione delle aree verdi. Nel comune di Firenze ci ha chiesto di elaborare con loro un progetto per costruire un percorso sia di formazione che di attività professionale per la manutenzione di aree verdi non particolarmente pregiate ma che hanno bisogno di essere curate. Anche lì inseriremo in quel caso, sono soprattutto ragazzi dell'abbandono scolastico. E così, insomma, potrei fare un elenco molto lungo e, ringraziando il cielo, anche molto vario perché dalla sartoria all'oreficeria, dal cinema ai facchini delle aziende di trasloco abbiamo veramente progetti avviati in tutti i settori. A proposito di identità culturale, proprio le micro web tv partono più o meno da questo. Vuole fare un appello ai net spettatori? Beh, guardate e parlate perché il grandissimo vantaggio della televisione di internet è che c'è anche il canale di ritorno che normalmente nella televisione non si ha a disposizione. E invece mi sento di dire a chi le web tv le fa, perché poi spesso sono anche le stesse persone, di farle con una mentalità di impresa. È bello lo spirito movimentista, è favoloso perché è la linfa vitale. Però la televisione è anche un'impresa e va affrontata con quei criteri, come dire, di professionalità che sono necessari se si vuole durare nel tempo e questo fenomeno merita di durare nel tempo. Quindi questo è l'agurio che ci fa? Assolutamente sì.